che trema forse bello toccati davvero giro ora gli cosnetti una un po' di controllo per 4 no adesso no adesso meno però guarda forse è la o è un condizionatore grazie Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Quaranta a sei secondi. Grazie. 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 Grazie.